Da lunedì scorso, come stabilito dalle circolari nazionali anche in Abruzzo, tutti coloro che saranno convocati per la somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid-19 potranno scegliere di ricevere contemporaneamente anche il vaccino anti-influenzale. L'assessorato alla salute della regione Abruzzo specifica che la vaccinazione concomitante è riservata alle categorie indicate dalle disposizioni della struttura commissariale nazionale, vale a dire ultraottantenni, fragili e personale sanitario. La stessa opportunità sarà garantita agli ospiti delle RSA e delle residenze protette per anziani nel corso delle sedute vaccinali che verranno effettuate all'interno delle strutture. Come da disposizione della struttura commissariale, la possibilità della vaccinazione concomitante sarà progressivamente estesa agli over 60. Ma la terza dose anti-Covid arriverà per tutti? Lo abbiamo chiesto al professor Paolo Fazzi, direttore unità operativa complessa, virologia e microbiologia della ASL di Pescara. Secondo me sì. La terza dose va fatta a tutti, anche perché c'è una recente esperienza fatta in Israele. Gli israeliani sono stati i primi a vaccinare tutti con due dosi, loro hanno utilizzato solamente il vaccino Pfizer e mRNA e sono stati i primi a vaccinare di terza dose tutti. E cosa hanno notato? Hanno notato che contro la variante Delta, che è quella presente in Israele, ma è presente pure da noi in tutto il mondo, quella che oltre il 90% circola in tutto il mondo, in pratica contro questa variante Delta, la resistenza nei confronti di questa variante data da questo tipo di vaccino, con la terza dose dal 71-73% raggiunge il 91-92%. Quindi significa che questa benedetta terza dose, passati i 6, 8, 9, 10 mesi dal secondo inoculo, va fatta a tutti. E solamente in questa maniera riusciremo ad essere più tranquilli, a passare un'invernata tranquilla, nonostante la presenza e la circolazione di una variante, appunto quella Delta ex indiana, che è molto infettante. Quindi ci salverà solamente la vaccinazione. In effetti stiamo vedendo che i soggetti non vaccinati sono quelli che ammalano e poi vanno purtroppo in reanimazione 8 decessi su 10 e a carico di soggetti che non hanno avuto nemmeno una dose o una sola. 2 su 10 invece purtroppo sono soggetti che invece sono debilitati per altre patologie, nonostante abbiano fatto anche le due dosi di vaccino. Lunedì poi sono stati riaperti cinema al 100%, i teatri al 100% e anche le discoteche seppure al 50%. Ma è possibile conciliare la pandemia con l'economia? Purtroppo sì, dobbiamo cercare di ricominciare a vivere nella maniera in cui si viveva prima del periodo Covid-19. E quindi secondo me è giusto pure riaprire le discoteche, pur con delle limitazioni, limitazioni legate al Green Pass, legate quindi ai tamponi da effettuare prima dell'ingresso. Anche questa categoria di lavoratori, peraltro le discoteche sono diffuse su tutto il territorio nazionale, insomma non so quanto possano incidere a livello di economia, però sicuramente è giusto pure che si dia la possibilità a chi lavora in questo ambito, ai giovani che hanno la voglia di ritornare a divertirsi in discoteca, di farlo. E con la pandemia del Covid non sono di certo sparite le altre importanti patologie, ma oggi c'è una speranza per la lotta contro la malaria, con l'approvazione da parte dell'OMS del primo vaccino, con l'auspicio di poter salvare quante più vite possibili, soprattutto tantissimi bambini. Sembra che il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, approvando il primo vaccino contro la malattia, abbia affermato e un dono per il mondo. La seconda causa di morte per malattie infettive è la tubercolosi nel mondo, incide mortissimo, soprattutto ovviamente nei paesi tropicali, equatoriali e comunque anche subtropicali, in tutti i continenti e purtroppo ci sono circa 200, dovrebbero essere 200 milioni di nuovi casi l'anno e 450 mila morti circa l'anno di malaria. E' diventato attuale parlare di vaccino anche contro la malaria perché probabilmente verrà commercializzato a breve finalmente un vaccino che tutela in una percentuale molto elevata appunto chi si è vaccinato contro la malaria e si tratta di un vaccino che all'inizio verrà utilizzato solo in età pediatrica. Però sono proprio i bambini che sono quelli che pagano lo scotto maggiore legato appunto alla diffusione di questa malattia e quindi speriamo bene. Era da parecchio tempo che si lavorava su un vaccino antimalaria e speriamo che funzioni realmente, le prospettive sono veramente ottime e a breve avremo anche quest'arma contro un killer che è conosciuto da tantissimi secoli e che a tutt'oggi purtroppo miete morte vittime. Grazie a tutti. Grazie a tutti.